Con questa nuova metodologia, si nota facilmente come negli intervalli di tritono, ad eccezione per il tritono, si fa, entrambi bianchi, le due note, oltre ad essere opposte, abbiano sempre colori invertiti, particolarità anche sulla tastiera del pianoforte, e vince solo calcolandoli uno ad uno. Sfruttando la facile memorizzazione del tritono, diventa altrettanto facile visualizzare gli intervalli di quarta e di quinta giusta. Basta semplicemente posizionare la seconda lancetta del tritono, rispettivamente un semitono prima, 150 gradi, o un semitono dopo, 210 gradi. Restano infine gli intervalli di settima e di seconda. Essendo anche questi complementari tra loro e particolarmente vicino alla nota di riferimento, rendono la visualizzazione ugualmente immediata. Grazie. 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 Grazie.